. Metri quadri 24 netti K, costituito da vano principale cucinino che si affacciano rispettivamente su giardinetti ovest, frontale, ed est, posteriore, piccolo WC nel ripostiglio posto nel sottoscalo. Piamo 1, metri quadri 24 netti K, al quale si accede da scala interna, con due camere da letto, WC e due terrazzini di metri quadri 8 K oltre l'astrico solare di K metri quadri 37, giardinetto ovest metri quadri 18, giardinetto oest metri quadri 13. Libero. Sito in, Contrada Dino San Nicola Arcella, Cosenza. Prezzo base, 40.320 euro Vendita senza incanto, 13 febbraio 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 18.25 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza M, 1, in Palla, CS, via G Falcone e P Borsellino, 8 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Esterina Policicchio, e-mail, e-policicchio-chiocciola-libero.it, telefono, 0982426070 Tribunale di Palla, esecuzioni immobiliari, 138 fratto 2006, unico Abitazione civile al piano primo, secondo FT, di metri quadri 95 circa di cui metri quadri 75 Caltestabili con accesso davano scale condominiale, composto da ingresso, corridoio disimpegno, soggiorno Pranzo, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da letto singola, bagno, ripostiglio, terrazzo coperto, veranda, di metri quadri 8 circa, terrazzo scoperto, balcone, di metri quadri 6 circa, attualmente occupato. Sito in, lungomare Colonnello Francesco Siri Marco Tortola, Cosenza. Prezzo base, 63.626,97 euro. Vendita senza incanto, 23 gennaio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15 e 24 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in Palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Daniela Servadio, e-mail, studio.servadio26.it Telefono, 349-600-9320 Tribunale di Pauna, esecuzioni immobiliari, 85 fratto 2006, unico Abitazione al piano secondo, mansardato, interno 19, scala B, superficie metri quadri 34,31, composto da locale soggiorno pranzo con attiguo angolo cottura e balcone, camera e WVC, libero. Sito in, con trada Petrosa Scalea, Cosenza. Prezzo base, 16.065 euro Vendita senza incanto, 23 gennaio 2019, ore, 12 Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15 e 30 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 2, in Palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Maria Aita, e-mail, aita.studiochiocciolaindind.it, telefono, 098-291991 Tribunale di Palla, esecuzioni immobiliari, 57 fratto 2013, unico Unita abitativa composta da due piani, superficie lorda metri quadri 85,48, metri quadri 76,08 netti. Il piano primo, di metri quadri 37,64 lordi e metri quadri 31,07 netti, è costituito da soggiorno barra pranzo, cucina, bagno e piccolo disimpegno. Il piano secondo, di metri quadri 54,41 lordi e metri quadri 45,01 netti, è composto da due camere da letto, bagno, ripostiglio e disimpegno barra vano scala oltre posto auto di metri quadri 60 di pertinenza esclusiva. Occupato, in via di liberazione. Locale sito al piano semi interrato del fabbricato adibito a deposito della superficie lorda di metri quadri 18,20, netta di metri quadri 14,72, ed altezza interna di mt 2,45. Sito in, via Guttuso Scalea, Cosenza. Prezzo base, 67.679 euro e 55 centesimi. Vendita senza incanto, 25 gennaio 2019, ore, 10. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15.33. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in Pala, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Luca, e-mail, ad marialuca-libero.it, telefono, 0982686339. Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 10 fratto 2012, unico. Appartamento per civile abitazione posto al piano terra, fabbricato e 1, interno 5, del complesso residenziale condominiale Honda, costituito da 5 vani, ingresso barra pranzo con angolo cottura, piccolo soggiorno, ripostiglio, bagno, 2 camere da letto e piccolo ripostiglio esterno. Consistenza metri quadri 65,50 con corte esclusiva di metri quadri 167. Attualmente libero. Sito in, via Antonio dei Curti Scalea, Cosenza. Prezzo base, 37.676,25 euro. Vendita senza incanto, 24 gennaio 2019, ore, 11 e 15. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15 e 31. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza M. 1, in Pana, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Giovanni Marzullino, e-mail, dgmarzullo-chiocciola-vergilio.it, telefono, 0982587291. Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 171 fratto 2009, unico. Abitazione urbicata al piano seminterrato, interno i, composta da corridoio con disimpegno, cucina, due camere doppia WC. Superficie complessiva metri quadri 50. Non occupato. Sito in, Contrada Santa Maria Pianetto B Fuscaldo, Cosenza. Prezzo base, 16.520 euro. Vendita senza incanto, 23 gennaio 2019, ore, 11 e 15. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15 e 26. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in Pana, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Anna Maria Roveto, e-mail, studiorovetocchiocciolallibero.it, telefono, 098291250 Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 23 fratto 2010, unico. Appartamento al piano terra di un fabbricato nel complesso residenziale denominato California composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, disimpegno e pertinenza scoperta giardino. Superficie calpestabile di metri quadri 33 oltre giardino per metri quadri 68. Attualmente libero. Sito in, via nazionale Contrada Borghiero Santa Maria del Centro, Cosenza. Prezzo base, 27.557 euro. Vendita senza incanto, 25 gennaio 2019, ore, 11.30. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15.33. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N, 1, in Pana, CS, via G Falcone e P Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Agnello Del Gatto, e-mail, anidelmchiocciolallibero.it, telefono, 0982971115 Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 96 fratto 2012, unico. Appartamento per civile abitazione al piano rialzato, interno 7, del Residence C barra R nel Parco Scalea 2000, composto da cucina fornita di balcone che dà su un terrazzino coperto da cui, tramite dei gradini, si accede alla corte di pertinenza, piccolo corridoio, due camere da letto e bagno. Superficie commerciale metri quadri 68,76, superficie utile metri quadri 28, superficie terrazzo circa metri quadri 9,4. Attualmente utilizzato dall'esecutata senza titolo. Sito in, via Fiume La Oscalea, Cosenza. Prezzo base, 36 mila 99 euro. Vendita senza incanto, 24 gennaio 2019, ore, 10. Vendita con incanto, 28 febbraio 2019, ore, 15 e 33. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in Palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Antonio Caridi, email, studio.caridi chiocciolalibero.it, telefono, 098581211.